Sì, dunque, noi formalizziamo oggi una scelta che è frutto di un percorso che abbiamo fatto con Guido da qualche tempo, che è quello appunto di abbandonare l'esperienza del popolo della libertà, di continuare a fare politica con un nuovo movimento politico che possa, differentemente da quello che è accaduto tante volte all'interno del popolo della libertà, riuscire a incarnare determinati valori nei quali crediamo, il valore della partecipazione, il valore della meritocrazia, il valore dell'onestà, tanti i valori che hanno accompagnato la nostra storia politica. Questo movimento che si inserisce sempre ovviamente nell'ambito del centrodestra si chiamerà Fratelli d'Italia e chiaramente vedrà la convergenza e la partecipazione di tutti quelli che pensano che sia, insomma, arrivato il momento di immaginare, di costruire un'altra idea di centrodestra che possa anche porsi il problema di perché l'attuale popolo della libertà abbia dell'uso così tanta gente.